Siamo in diretta per leggere i giornali, dare un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti pubblicate sul Corriere Adriatico e il resto del Carlino e come sempre iniziamo dicendovi qual è il santo del giorno di questo primo aprile che in tempo di pace era anche giorno dedicato agli scherzi, ma c'è poco da scherzare insomma siamo a Santa Maria Egiziaca, il sole è sorto alle 6.48 e tramonterà alle 19.35 il tempo avremo un cielo sereno su tutta la costa adriatica, attenzione alle gelate di prima mattina questa mattina fa freddo comunque in queste prime ore della giornata per il resto c'è poco da raccontarvi sia oggi che domani, domani è ancora freddo soprattutto durante la notte, venerdì 3 aumentano un po' le temperature non ci saranno le gelate notturne ma per il resto avremo tempo stabile e soleggiato Allora, nell'uovo di Pasqua, questo è il titolo, vedete sulla prima pagina del Corriere Adriatico nell'uovo di Pasqua, la bella sorpresa, dimezzate le percentuali di crescita dei contagi l'esperto, meno di due settimane, picco prima di Pasqua, di furia, i nostri malati più anziani dell'Italia ho fiducia ma aspettiamo, è poi svelato il mistero di pochi guariti il mistero che riguarda, come ci ha detto il Presidente della Regione Ceriscioli l'altra sera nel nostro telegiornale, sapete che per dichiarare una persona guarita occorrono fare due tamponi e per fare i due tamponi occorre chiaramente il reagente reagente che in questo momento scarseggia e quindi di qui la necessità di utilizzare questo reagente per fare i primi tamponi, quelli che servono per vedere chi è positivo o meno quindi risparmiarli per la dichiarazione dei guariti ma poi arriveranno evidentemente tutti in una volta quando avremo a disposizione il reagente nell'uovo la bella sorpresa immagino il titolo sia soprattutto qualcosa che riguarda appunto una sorta di profezia, speriamo che ci prendano insomma in base anche ai dati che sono a disposizione c'era uno studio, ieri leggevo, dove purtroppo tra tutte le regioni le Marche e l'Abruzzo sono quelle, o il Molise adesso non ricordo bene, quelle delle due non avevano ancora una data certa sull'uscita probabile da questa emergenza più o meno, per esempio la Lombardia era il 22 di aprile quindi speriamo che sia insomma lì attorno e ci siano soltanto ancora poche settimane la ricetta per tornare a produrre, eccola qui, categorie economiche, liquidità, moratorie su tasse mutue, vigilanza bancaria, misure speciali per il turismo ecco che cosa serve per salvare l'economia delle Marche e poi c'è, lo vedremo tra pochissimo, un paesino nel Pesarese, che è Frontino dove praticamente è stato lambito dal coronavirus non c'è tra i suoi abitanti, qualche centinaio di abitanti non c'è al momento nessuno che abbia contratto o che sia positivo appunto al Covid-19 quindi il titolo di qui, il miracolo di Frontino, Covid esente poi sotto le altre notizie e lanci in breve da Pesaro, pronti, buoni spesa, stanziati 500 mila euro pensionati, dimenticati sempre da Pesaro, tamponi a tappeto per i tanti sanitari di tutta l'area vasta sono evidentemente delle richieste morto Santo Rossi, il gigante buono della pallacanestro e poi sotto ancora di taglio basso piccole aziende, fondo sociale contro la crisi oggi riunione tecnica con tutte le associazioni alle 10.30 in consiglio una riunione con le associazioni di categoria a Pesaro delle realtà economiche locali per trovare soluzioni all'economia appunto e questa invece è la prima pagina del resto del Carlino edizione peserese mascherine alle stelle sequestrate blizze della finanza in due farmacie i prezzi troppo alti ma i titolari non ci stanno e dicono qui è tutto in regola e poi in lacrime per loro il titolo della fotonotizia da Santo Rossi a Giampaolo Farina il tributo della città chi sono le vittime tra le tante, ahimè di cui parla il resto del Carlino sono Santo Rossi in questa vecchia foto giocatore di pallacanestro un commercialista, Giampaolo appunto Farina Mauro Vagnini, Marino Vagnini scusate, fondatore del Poggio e Massimo Gallendi appassionato di motori poi a Villa Fastigi è partita sono partiti i tamponi in auto o meglio partono oggi i tamponi in auto come usufruire del servizio è bene ricordare subito che non bisogna andare lì per fare i tamponi si viene chiamati dall'ASUR quindi non facciamo confusione non è che se uno ha necessità di fare un tampone prende, va lì e si fa fare il tampone si va solo se chiamati dall'ASUR quindi c'è tutta una prassi da seguire tutta una prassi consolidata da fare buoni spesa 25.000 voucher alle famiglie ecco le istruzioni per avere questi soldi dal comune e poi l'appello per quanto riguarda il commercio congelare gli affitti dei negozi siamo già al primo del mese quindi immagino le difficoltà alla fine di questo mese nella giornata di ieri a reperire soldi per pagare quello che è possibile pagare perché poi è inutile mandare lettere in cui si chiede di onorare le fatture a destra e a sinistra se non ci sono i soldi non si può pagare niente come si può fare? è un cane che si morde la coda poi vita da reclusi pioggia di scuse per uscire di casa già giù multe raffiche di telefonate alla polizia locale la gente inventa di tutto pur di evadere da casa e poi i racconti di chi ha vissuto l'ultimo conflitto quello della seconda guerra mondiale in guerra almeno e comunque ci si poteva abbracciare si poteva uscire ma soprattutto ecco ci si poteva anche in qualche modo abbracciare e farsi coraggio le pagine interne questo resto è il Corriere Adriatico virus che è frenata che belli questi titoli che danno così questa speranza virus che è frenata il picco si vedrà prima di Pasqua percentuali di crescite dimezzate in 7 giorni contagi a 3825 i morti sono già 477 l'analisi del dottor Pesaresi che dice ancora due settimane di pressione sugli ospedali e poi dovremmo in qualche modo allentare i ricoveri sono diminuiti ma salgono 169 quelli nelle terapie intensive l'esperto dice servono subito tra i 20 e i 40 posti letto per pazienti più gravi ed è di questo che si parla anche sul resto del Carlino noi l'abbiamo fatto qualche sera fa ricordo nel telegiornale lo ricordo ancora una volta quando Ceriscioli a un certo punto snocciolando i dati e le previsioni per i prossimi giorni a quel punto gli abbiamo detto ecco perché questa necessità di fare l'ospedale o meglio ricavare questa struttura da 100 posti di terapia intensiva in più anche perché giustamente adesso viene da dire ma è ancora necessaria questa struttura da 100 posti di terapia intensiva se si comincia a parlare grazie al cielo di diminuzione dei contagi eccetera eccetera non è come per esempio dice D'Ambrosio l'ex governatore qua sotto in un piccolo trafiletto dice D'Ambrosio attacca dice è un paradosso i casi sono in calo e la nuova struttura serve se va tutto male dice l'ex presidente appunto della Regione sì è anche vero questo in linea teorica ma non dimentichiamoci che Ceriscioli ha dei dati più aggiornati e fino adesso ahimè ci ha sempre preso anche quando inizialmente lo attaccavamo dicendo che cosa sta facendo tutte queste ordinanze che chiude destra e sinistra che cosa serve in realtà ci aveva visto lungo e meno male che è andato anche con il braccio di ferro contro il governo il presidente e qui parliamo di questa intervista che il Carlino ha realizzato con il presidente Ceriscioli su questa necessità di fare questa questi 100 ulteriori posti letto di terapia intensiva e lui dice in base ai dati elaborati dal servizio sanitario nazionale con il supporto del Gores marchigiano relativo appunto all'andamento di questa epidemia nella nostra regione in base a questi dati si ipotizza che tra il 10 e il 12 di aprile quindi siamo proprio a Pasqua ci si possa trovare all'apice massimo della curva con necessità quindi di ulteriori 65 posti letto di terapia intensiva e 100 posti letto di semi intensiva in base a quali dati la domanda è in base a quali dati si è fatta questa stima e lui ha parlato appunto ha dato la sua risposta che potrete leggere sul giornale di questa mattina e poi sulla probabilità di sprecare risorse su una struttura provvisoria che servirà per pochi mesi anche qui Cerescioli che ha ascoltato il nostro telegiornale ha già risposto in qualche modo dicendo sono tutte apparecchiature che si possono tranquillamente riutilizzare in altri ospedali ma andiamo a frontire a frontino perché mi confondo tra frontino e frontone qui siamo a frontino esattamente che è piccolissimo guardate dov'è siamo sulla punta siamo nel pesarese questa è la regione e siamo proprio sulla punta quasi sulla punta al confine con l'Umbria ebbene c'è questo piccolo borgo pesarese che il coronavirus ha praticamente lambito almeno fino ad oggi è risparmiato ed è il più piccolo paese della provincia marchigiana dove l'epidemia che è esplosa in maniera violenta e referenabile ha di fatto risparmiato questo paesino lì un residente si accorge che c'è il coronavirus solo quando va al negozio per fare la spesa e quindi deve entrare uno alla volta e di conseguenza sta in coda ecco per il resto non si vede 300 abitanti il sindaco e Andrea Spagna quattro frazioni Ponte Nuovo Torrito Linara e Monte Fiorentino una superficie di 10.000 scusate di 10,37 km2 quindi 10 km2 di superficie quindi 29 abitanti per km2 dista 134 km da Pesaro e 43 km da Urbino però ci sono eppure ci sono in questo in questo paesino questo frontino ci sono anziani e anche malati accanto al focolaio senza un contagio e loro dicono venite qui studiateci cercate di capire perché qui nessuno si è ammalato pochi residenti la quarantena qui è quasi naturale nel senso che la vita evidentemente gli è cambiata poco perché essendo pochi essendo un piccolo paesino evidentemente la quarantena lì c'è tutto l'anno l'unica paura in caso di necessità non sappiamo dicono a chi rivolgerci e tornando a Fano invece queste sono le fotografie di chi non ce l'ha fatta purtroppo virus uccide un agricoltore di 53 anni morto anche un tiratore sportivo Giordano Morbidelli di Caminate non aveva patologie pregresse per entrambi la malattia è stata molto rapida Roberto Meo 57 anni di tombaccia l'8 marzo aveva chiuso l'impianto di Monte Scantello poi sotto raccolta fondi per l'ospedale di Fossombrone lo lancia il sindaco Bunci insieme alla bocciofila in campo con il suo conto corrente e poi i medici senza frontiere che sono andati alla RSA di Mondolfo è stata accolta dunque dall'Asur e dalla regione la richiesta dell'amministrazione comunale di Mondolfo di ricevere il supporto di medici senza frontiere nella casa di riposo Caradorini di Mondolfo e poi sotto addio al gigante buono una vita sotto canestro morto a 80 anni Santo Rossi contagiato dal coronavirus lascia tre figli dalla maglia della Max Mobili a quella della Nazionale lo sport è in luto e Lion's Crab piange invece Gian Paolo Farina lo vedete in questa fotografia qui a fianco esperto e noto commercialista che aveva fatto l'ingresso nel suo dalizio quindi nel Lion's Crab nell'anno sociale 76 77 e ancora dai giornali al Miralfiore l'idea del sindaco Riccio è quello di realizzare costruire un monumento dedicato alle vittime e agli eroi di questo coronavirus intanto ieri un minuto di silenzio a mezzogiorno a bandiere a mezzasta il sindaco annuncia l'omaggio alla città ai morti e ai sanitari del San Salvatore le vittime in provincia sono 273 un dolore infinito per tutti noi il presidente Paolini presidente della provincia dice davanti al monumento ai caduti di Monte Guiduccio è andato lì a commemorare i defunti l'omaggio dell'arma dei carabinieri il grande e il grazie a chi lotta per la vita per la vita anche vedete in questa fotografia di fronte alla caserma del comando provinciale c'è stato questo questo momento di raccoglimento davanti alla caserma di via salvo d'acquisto in occasione dell'alza bandiera e quindi insomma momenti ieri anche di forte commozione intanto i tamponi dicevamo in auto si parte si parte anche a Pesaro al via da oggi il checkpoint salute Villa Fastigi si entrerà con il proprio mezzo quindi si va in automobile e si ci sottoporrà al test restando in macchina restando a bordo ecco chi può usufruire del servizio da questa mattina dunque in via dei cacciatori al civico 34 c'è questa questo checkpoint chiamiamolo così il servizio non è aperto a tutti lo ricordiamo ancora una volta sarà l'area vasta numero uno a chiamare quelle famiglie oppure i singoli che sono censiti negli elenchi del dipartimento di prevenzione che non manifestano più sintomi da almeno 14 giorni va bene a spiegare come funzionerà l'ambulatorio tenda è il consigliere Biancani che ha partecipato poi i sopralluoghi con la protezione civile eccetera eccetera quindi si entrerà in questa tensostruttura le auto sono quelle appunto dei contagiati ex contagiati insomma senza scendere dal veicolo troveranno ad accoglierli un operatore che è addestrato ad eseguire i prelievi e questo permetterà di effettuare i test ai potenziali guariti in modo molto veloce fino a 10 persone ogni ora poi ci saranno anche delle aree coperte per gli addetti con postazione pc spazi per cambiarsi uscire e uscite differenziate ovviamente ecco però l'importante è che sia chiaro per tutti che questo chiamiamolo checkpoint che è attivo da questa mattina non è per tutti non è ci si va solo se si viene chiamati con appuntamento primo estubato a Durbino la fine di un incubo è un 64enne che era stato ricoverato in animazione il 17 marzo scorso per una polmonite biraterale il dottor Brancaleoni sollevato dice questa notizia esce da fiducia il percorso però è ancora lungo per la totale ripresa diciamo per quanto riguarda l'andamento anche qui il resto del Calino parla in maniera cauta di questo effetto plateau che è l'effetto in cui ci si trova un po' tutta l'Italia non siamo al picco inteso come punta di un monte ma è un plateau quindi c'è una come fosse una prateria in questo momento siamo sul punto più alto però non è a punta questo punto più alto questo punto estremo della curva siamo in una come se fosse una prateria adesso che bisogna attraversare restando sempre in cima in alto in vetta sperando che poi ci sia presto questa discesa solo 25 nuovi casi sono 43 i pazienti in terapia intensiva dunque ci stiamo avvicinando questo effetto plateau che in gergo statistico indica la stabilizzazione di questa epidemia superata la quale calerà sensibilmente la curva dei nuovi contagi e tutto questo ci deve far pensare e dire che cosa che dobbiamo ancora tener duro cioè dobbiamo ancora non allentare la morsa per non vanificare tutto quello che abbiamo fatto fino adesso per tutti i sacrifici che abbiamo fatto fino adesso negozi e qui parliamo di economia affitti congelati appello ai proprietari incontro tra le associazioni di categoria i titolari degli immobili bypassare i pagamenti di aprile e maggio da spalmare fino a 18 mesi e questo è un problema è un problema lo scrive Angelica Panzieri questa mattina sul resto del Carlino c'è stato questo incontro dove il segretario di Confcommercio Davide Ipaso insieme a quello di Confessor Centi Alessandro Ligurgo l'assessore all'attività economica del comune di Pesaro Francesca Franquellucci il segretario dei commercialisti Luca Gironzi insomma tanti attori protagonisti di questa concertazione per cercare di trovare una soluzione a questo problema degli affitti intanto il centrodestra chiede meno tasse e non solo ci sono delle proposte che il giornale pubblica questa mattina poi ancora dal resto del Carlino invece la pagina di Fano si parla dei buoni spesa che arriveranno a casa i volontari della protezione civile e del terzo settore raggiungeranno direttamente i destinatari è stata scelta la strada dei buoni spesa dunque a Fano per distribuire tutte quelle risorse messe a disposizione del governo dal governo per le famiglie in difficoltà economica abbiamo detto ieri che Fano ha già ricevuto in queste ore avrà nel conto corrente del comune 322 mila euro poi tutti gli spiccioli che verranno distribuiti appunto alcuni attraverso i servizi sociali qui vedete Dimitri Tinti il presidente dell'ambito sociale numero 6 perché il comune conosce già le famiglie che hanno bisogno perché ogni anno tutto l'anno ci lavora tutto l'anno le segue queste famiglie quindi sa a chi devono essere destinati questi soldi perché non ci sono possibilità per queste famiglie di andare avanti soprattutto poi figuriamoci in questo periodo poi c'è anche le famiglie monoreddito i lavoratori dipendenti autonomi ai quali è riconosciuta la cassa integrazione il bonus da 600 euro tutte queste situazioni qua che chiaramente che chiaramente possono fare fino a un certo punto richieste quindi è importante e questo magari anche oggi nel nostro telegiornale cerchiamo di fare chiarezza da questo punto di vista per vedere chi tra quelli che non sono seguiti dai servizi sociali possono chiedere un contributo o chiaramente voi lo sapete voi quelli che ci stanno ascoltando a casa qual è la vostra situazione quindi sapete benissimo se è il caso di chiedere questo aiuto sussidio al comune oppure oppure no lasciare spazio a chi ne ha bisogno e anche qui speriamo che non ci siano i furbetti quelli che fanno finta di essere poveri pur di prendersi qualche soldino su questo mettete la mano nella coscienza perché ce ne sono tanti purtroppo dolore per la morte di Roberto Meo anche qui momento di serenità nella fotografia vedete dopo una gara di tiro al piattello a Monteschiantello si curava anche di mantenere le macchine per il lancio del campo fanese quindi faceva la manutenzione l'elettricista fanese che risiedeva a Pesaro aveva 58 anni l'ultima telefonata venerdì poi è stato sopraffatto dal virus lo ricordano lo ricordano gli amici come il presidente del tiro al volo fanese Marcello Palazzi insomma anche questo è purtroppo uno spaccato di quello che stiamo vivendo ed è uno spaccato che si replica ogni giorno speriamo che finisca presto buone spese alle famiglie istruzioni per l'uso qui siamo invece a Pesaro 25.000 voucher saranno consegnate alle persone in difficoltà di fragilità economica tutti i requisiti per ottenerli anche qui nella pagina del giornale i dati per richiederli si possono inviare con l'email il web oppure c'è un numero verde quindi questa sera cercheremo ecco vedete chi dichiara il falso ecco attenzione guerra ai furbetti chi dichiara il falso rischia grosso saranno distribuiti casa per casa quindi anche qui attenzione ancora dal resto del Carlino parliamo di mascherine alle stelle mascherine alle stelle nel senso che la guardia di finanza ha effettuato controlli al San Salvatore a Madonna di Loreto due farmacie di Pesaro i titolari però si difendono non ci stanno dicono tutto in regola e lo dimostreremo il primo caso mi hanno fatto una contravvenzione dice Claudio Mari di 1300 euro ma tutta l'intenzione di impugnarla come dire non è giusto allora qui ci sono dispositivi che sono stati venduti a un prezzo di 3 euro l'uno da un'azienda pesarese che prima produceva camice quindi non c'è stato nessun rincaro folle da parte nostra ciò nonostante mi hanno sequestrato la merce quattro mascherine che erano già state prenotate da alcuni pazienti anziani che ne avevano bisogno ed elevata una contravenzione di 1300 euro parla il farmacista che ho intenzione di impugnare perché ritengo di essere in regola e il caso questo caso delle mascherine che costano un sacco di soldi scoppia nel bel mezzo di questa epidemia la farmacia invece Madonna di Loreto riprenderà a vendere le mascherine quando saranno disponibili dai rivenditori abituali sì andiamo avanti dunque consiglio online qui siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico proroga l'incarico il dirigente Celani affida all'attuale gestore Wright System l'organizzazione delle sedute in videoconferenza la segreteria la segretaria generale prevede la prima convocazione tra un paio di settimane sarà recuperato anche l'arretrato intanto il sindaco Seri ieri ha chiesto che il servizio dei tamponi ai guariti predisposto al CODMA sia esteso anche ai medici di famiglia mentre sotto si parla di buoni spese anche qui l'ambito sociale segue la linea di Fano la prima fascia di beneficiari riceverà automaticamente i contributi con alcune variabili alcune ambulanze ambulanze ferme manca la benzina la Croce Rossa di Fano lancia una campagna per raccogliere fondi c'è carenza di attrezzature e di mezzi poi sotto tamponi per sanitari forze armate e polizia lo chiede Roberto Russini parlamentare dei 5 Stelle è una sollecitazione del fanese parlamentare sollecitazione che arriva anche dal sindaco di Fano Massimo Seri dalla Valle del Cesano invece da Serra Sant'Abbondio Dante a Fontavellana scrisse versi del paradiso grazie alla citazione del Catria Serra partecipa congradare alla promozione del 2021 guardate che bella fotografia di questo aeremo di Fontavellana nel 300 affidato agli Avellani Avellaniti ecco questo spaccato guardate che bella questa immagine soprattutto adesso che siamo costretti dentro casa il 25 marzo primo Dante di il sindaco ha lanciato un flash mob e un concorso di foto e anche di disegni Sebastianelli invece il sindaco di Terre Roveresche attenzione scusate torniamo indietro eccolo rispinge la diffida di CGL Cisle Will le norme dice il sindaco sono state rispettate il tono dell'atto elisivo del cittadino non abbiamo tempo per spiegarvi leggiamo solo il titolo l'alluvionato invece questo è la pagina di Senigallia David Starnadori che è il fornaio che aiuta adesso a chi non ha da mangiare è un ex alluvionato e che adesso restituisce il favore regala il pane a chi è in difficoltà è stato aiutato a risalire dalla gente quella volta quando il suo negozio andò distrutto e adesso è lui che aiuta chi ha bisogno so cosa significa non avere da mangiare è una bellissima testimonianza ogni giorno dopo le 13 mette fuori dal suo negozio filette e panini rimasti invenduti e questa è la storia che racconta Sabrina Marinelli questa mattina sul Corriere Adriatico poi nonna Aldesina sempre a Senigallia che festeggia 90 anni dalla finestra vedete qui nella fotografia i familiari le hanno portato uno striscione palloncini e una torta e una torta con la candelina e allora noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la rassegna stampa grazie per averla seguita grazie per essere stati con noi noi ci vediamo questa sera alle 20 e 30 con il telegiornale vi ricordo tutti gli appuntamenti che servono per mantenere come dire risalda la nostra fede per la parte spirituale ma abbiamo pensato anche alla parte diciamo del corpo e quindi vi annuncio che stiamo preparando in questi giorni chiaramente da casa perché non possiamo farlo nelle palestre perché sono tutte chiuse stiamo preparando da casa un momento con due professioniste stiamo preparando delle trasmissioni per fare un po' di ginnastica abbiamo risposto alle vostre sollecitazioni sono arrivati dei messaggi nei quali ci chiedevate appunto di organizzare queste trasmissioni ci siamo messi in movimento abbiamo organizzato e le stiamo preparando oggi le cominceremo a registrare quindi nei prossimi giorni daremo la possibilità a tutti voi che siete a casa e che ci seguite in televisione di seguire questi allenamenti per restare in forma io resto in forma e questo è un po' il senso di queste trasmissioni che manderemo sia al mattino che al pomeriggio negli orari in cui è più indicato fare un po' di movimento ok? e lo possiamo fare tutti grazie per essere stati con noi buona giornata ci vediamo stasera grazie a tutti